a curiosità, tanto hype su questa intervista, siete tutti curiosi e finalmente possiamo conoscere Francesco che ora vi presento. Ciao Francesco, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a te dell'invito e grazie a tutti quelli che ci seguono. Volevo partire in questa intervista con Francesco andandogli a chiedere innanzitutto, indagando i motivi, entriamo un pochino nel personale, indagando sui motivi che lo hanno spinto a iniziare un percorso di cambiamento qualunque e quindi gli chiedo subito cos'è Francesco che tu non sopportavi della tua condizione iniziale, della tua condizione di prima? Beh, della condizione di prima sicuramente il fatto di essere molto robusto, quindi ti creava tanti problemi sia fisici, quella è quella, la cosa principale. E anche interfacciarsi con gli altri, naturalmente non ti permetteva di esprimersi al meglio, ti faceva, ti faceva sentire a tuo agio. Qual era questa condizione del schermo? Un po' qual era la tua situazione innanzitutto? Allora, io giocavo a fotobolo americano, ho subito un grave infortunio al ginocchio e sono rimasto fermo per circa un anno. In quest'anno ho stato operato al crociato, non riuscivo ad allenarmi per come facevo prima, ma continuavo a mangiare per quanto facevo prima, dato che io mi allenavo tre volte in palestra e tre volte sul campo, quindi ero sei giorni a settimana allenandomi, quindi il mio corpo era abituato a sciupare tantissime calorie. Stando fermo, continuando a mangiare quella quantità di cibo, quella quantità di calorie, naturalmente il mio corpo ha deciso di chiarire. Si doveva un pochettino allargare per mantenere tutto all'interno. E il risultato qual è stato? Il risultato è stato sui quasi 130 kg. La foto con la maglietta bianca risale all'inizio di quest'estate, forse giugno. E lì erano 40 kg? Lì erano 40 kg. Ok, ora fa. Così ne saranno 40, 44, 45. Ok, bene, bene. Diciamo, ottimo. Lottiamo e continuiamo ad andare. E non sembra pesarti, diciamo, non sembra pesarti più di tanto, ne parlavamo anche all'inizio dell'intervista. No, assolutamente. Proprio il percorso è che non ti pesa, perché diciamo che sei libero di gestirti. Naturalmente non è una dieta rigida dove non... dove hai delle grammature precise da seguire, dove hai del cibo che devi mangiare, il famoso riso e il pollo, o i broccoli, o cose magari dove sei... dove devi mangiare solo quelle, altrimenti scordi. Di età possibile puoi mangiare tutto, rispettando naturalmente i tuoi macros, e ti puoi gestire tu durante la giornata, rispettando le varie regole, giustamente, della buona alimentazione senza esagerare, e puoi gestirti per cominciare a gestirti. E quindi non ti pesa, se c'hai quello sfizio che vuoi toglierti, te lo puoi togliere, facendo rientrare naturalmente nell'alimentazione delle... l'alimentazione nello sgarro, diciamo, del 20% di cibo non pulito che puoi mangiare durante la settimana. Certo, questo lo vedremo magari un po' più nello specifico, però per continuare volevo andare un attimo a vedere, un po' appunto analizzando la situazione iniziale, cos'era che provavi proprio a livello emotivo, a livello anche psicologico, a livello personale, cosa provavi a vederti in quella condizione di 40 kg di sovrappeso? Naturalmente l'imbarazzo. Quando sei davanti ad altre persone ti imbarazzi, se non sei a tuo agio col tuo corpo con te stesso, ti imbarazzi tantissimo. Poi, riprendendo il discorso di prima, essendo che io mi allenavo tanto durante la settimana, arrivo al punto che facendo una due rampe di scale, il fiatone, non stavi mai bene, ti trovi in difficoltà con te stesso, non riuscivi a... anche la partita di calcetto ti veniva difficile, riprendere a giocare era un'utopia, perché essendo molto grosso, uno sport di collisione come il football, rischi realmente di farti male, perché non sei in grado di esprimerti al massimo. Chiaro. E questo, questi aspetti, anche questa, diciamo, chiamola anche insicurezza, insoddisfazione nella tua vita personale, un po' come influiva? Cioè, aveva una ripercussione oppure comunque finiva lì? No, naturalmente, aveva una ripercussione di stress, l'ipercussione è appunto di non essersi, di non sentirsi a suo attuaggio, non stare bene con te stesso, a certe volte ti portava a mangiare di più, ancora di più, perché lo stress certe volte c'è chi è fortunato e non lo fa mangiare, io sono tra la parte degli sfortunati dove ti porta a mangiare esensivamente. E quando ti stressano, mangiano un sacco. Quando stressi, mangi, sì, quindi io faccio parte di quella, di quel lato, diciamo, che mangiava tanto, anche sotto stress, sotto imbarazzo, e aveva tanto bisogno di avere una svolta. E infatti la svolta, diciamo, tu l'hai cercata più volte, provando le diete classiche, no? Le diete tradizionali, descrivici un po', descrivi anche agli amici che ci seguono che tipologie di diete, che sono un po' quelle che hanno fatto tutti, no? Quelle classiche, ma descriviamo un pochino il tuo percorso, cioè con cosa hai fatto all'inizio? Il luogo comune, subito, è di... Io, naturalmente, togliere i carboidrati, la cosa principale, diciamo che la maggior parte delle diete è ridurre i carboidrati al minimo, se non eliminarli totalmente. Ho provato tantissime di quelle diete, diete dove dovevi mangiare tanti grassi per aumentare l'acidità, diete solo di verdure, diete solo di frutta, ma che alla fine magari quel momento ti davano il risultato, ma poi ti fanno il classico effetto yo-yo, quindi perdi, rimetti, riperdi, perdi tutto il tempo e quindi rischi di far più male a te stesso certe volte. Quindi, alcune volte poi non... nemmeno andavi. Quelle tristi, ci dice la nostra amica. Molto, molto tristi. Certe volte, appunto, mi dicevo, preferivi non farle, ti fermavi perché capivi che non ti stavano facendo bene. Magari ti facevano stare stressato, ti facevano stare sotto pressione, devi stare attento ai grammi, se ti capitava la festa o l'uscita, certe volte la rifiutavi perché non potevi mangiare, perché eri a dieta. Beh, immagino che questo influiva, oltre che sulla vita sociale, influiva su come ti sentivi tu dal punto di vista personale, dal punto di vista emotivo. Certamente, ti lascio immaginare, se tu esci con gli amici e tutti stanno bevendo una birra e tu sei con la bottiglietta d'acqua, l'imbarazzo lì sta proprio di base. Oppure, come dicevo poco fa, tutti si mangiano una pizza e tu devi ordinare la fettina di pollo, o devi chiedere se ti fanno la fettina di pollo. Quindi, molte volte era... ti sentivi proprio in imbarazzo su quella situazione. E Francesco, andiamo un pochino alla storia più recente. Come hai scoperto dieta flessibile? Allora, dieta flessibile l'ho scoperta su Facebook. Ho seguito per un pochino di tempo. Ero molto perplesso, quello sì, all'inizio. Sai, però, magari poi vai leggendo, vedi i commenti, che sono di persone naturalmente reali, ho detto, va, tentiamo. Io ne ho provate tante nella vita, una in più non mi costa nulla. Dopo che ho provato tutto, magari pure che becco l'ennesima fregatura... Una in più, l'aggiungiamo alla lista. L'aggiungiamo alla lista. E ho provato, ho deciso di buttarmi in questa avventura. Come vedi, non sei stato l'unico, perché iniziano a venire fuori, tra l'altro, persone che ora ci seguono e stanno avendo grandi risultati, tipo Marianna, sta avendo risultati pazzeschi. Tutti, forse, quelli che sono più scettici all'inizio, anche Eleonora, quelli che sono più scettici all'inizio e ci analizzano, ci studiano per bene, forse sono quelli che poi si dedicano e si concentrano di più una volta che decisano. E tu sei tra questi casi di successo pazzeschi. Mi sono allenato seguendo i tuoi consigli alla lettera, seguendo i tuoi allenamenti alla lettera e i risultati andavano. Si sono visti, diciamo. Diciamo che correvano tanto i risultati, molto molto velocemente. E Ciccio, stanno arrivando alcuni commenti, perché vogliono sapere comunque tu che risultati hai avuto? Allora, nell'immediato ho notato un aumento assurdo dell'energia. Perché sistemando l'alimentazione, la prima cosa che noti giustamente è l'energia che riesci a gestirla in modo diverso. Quindi un aumento pazzesco dell'energia. Poi io credo di essere stati tra i pochi fortunati che, se non ricordo male, in tre settimane circa, dovevo seguendo naturalmente tutto alla lettera, e questo ve lo dico, i macros perfettamente, gli allenamenti perfetti, senza andare mai fuori, seguendo la regola del 100% perfetto. Questo ve lo sottolineo perché non vorrei che qualcuno pensa che facendo quello che vuole e magari riesci ad ottenerlo ugualmente, io nelle prime tre settimane, se non ricordo non avevo perso circa 12 kg di grasso. Anche tra, più che grasso pagheri una buona parte erano anche gli liquidi, visto che eri tanto sotto con il metabolismo, il tuo metabolismo era veramente, io mi ricordo il quadro, era un metabolismo devastato. Mi ha fatto vedere anche Francesco alcune diete che aveva fatto, c'era chi, quando lui pesava 130, quando pesavi 130, c'era chi ti aveva dato 1000 kg. 200 calorie, tu eri veramente devastato. Io non mi sono messo le mani e i capelli quando abbiamo fatto la videoconferenza per non farti spaventare, ma c'era veramente da, praticamente, resettarti, reimpastarti e modificarti da capo. Infatti, magari non è che tu hai perso 12 kg di grasso, non diciamo, non facciamo intendere questo alle persone e non, lo dico sempre io, che non ci sono risultati facili e miracolosi. Una buona parte è stato grasso, perché Francesco è sempre stato uno che ci dà dentro, anche con l'allenamento e tutto, però tanto cortisolo, tanto stress, aveva una ritenzione idrica bestiale, che gli nascondeva tanti risultati. Quindi, diciamo, un buon 50-50, che comunque è un ottimo risultato. Io immagino che tutti metterebbero la firma per perdere anche 6 kg di ritenzione idrica in tre settimane. E poi, dicevamo, quindi nell'immediato è stato questo il risultato. E dicevi che sei stato per tre settimane super preciso, senza uscire, però la gente magari, senza uscire fuori dai macros. La gente potrebbe pensare che, appunto, per non uscire dai macros, tu ti sei privato di un sacco di cose. No, no, assolutamente. La gestisci come vuoi, ti organizzi per come vuoi e cerchi di far rientrare tutto, perché tutto si può far rientrare nei macros. Riesci a far rientrare tutto nei macros e mantieni una linea sulle calorie di quei bisogni. E sul lungo termine, Francesco, perché giustamente questo è stato il risultato di tre settimane. Poi cosa hai visto dopo queste tre settimane? Cioè, come si è trasformato, plasmato il tuo corpo? Beh, poi, diciamo che naturalmente, andando avanti, quel picco non c'è stato più di perdita di peso tutt'assieme. C'erano piccole, delle perdite di peso con dell'aumento di massa magra, naturalmente. Quella fa tanto nel peso, nel peso fa tanto, anche nel metabolismo fa tantissimo. E quindi, diciamo che il corpo si comincia a modellare, la massa magra, aumentando tanta massa magra, comincia a vedere delle parti che non ti aspettavi. Le braccia, c'è la schiena, le spalle, le gambe. E te lo aspettavi che migliorando ti avrei dato più roba ancora da mangiare? No, infatti, per quello che dicevo poco fa, aumentando la massa magra aumenta anche il metabolismo. E quindi, come ci insegna il buon Valerio, e quindi dieta flessibile, se ti aumenta il metabolismo devi soddisfare il metabolismo, altrimenti ti fai solo del male. E come ti sei tirato indietro quando io ti ho dato più calorie? Ormai avevi capito il meccanismo, anzi! No, no, infatti ti posso dire che oggi ho mandato 150 grammi di pasta con 150 grammi di lenticchie. Non male. Solo a pranzo. Evito il resto della giornata, quello è solo il resto del pranzo. E credo che la base dei risultati di dieta flessibile, non solo i miei, ma anche di tutte le altre persone che ci sono, sia proprio questa tranquillità nel riuscire ad organizzarsi le cose da mangiare, senza avere lo stress di quello che devi mangiare, dell'essere preciso, che ti lascia la libertà e quindi non ti fa stressare. Lo stress è quello delle cose più brutte che possono esistere, soprattutto quando provo a fare la dieta, è quello che ti fa perdere tutti i risultati che ho ottenuto. credo sia proprio questo, che ti aiuta tantissimo. Sì, infatti, come dice Eleonora, non ti fa sentire la dieta. È veramente la cosa più importante. Paradossalmente, con la dieta flessibile, che ti consente di mangiarti anche le merendine, anche le cose proibite, paradossalmente ci siamo resi conto che la gente tende a mangiare molto meglio, perché potendole infilare quando vuole, sta più attento alla qualità, piuttosto che a mangiarsi le merendine a muzzo o a casaccio nella propria dieta. Questo è un aspetto vincente, secondo me, di una dieta. Quando ti rende libero e ti fa capire che puoi fare veramente quello che vuoi, che non hai nulla di vietato, hai vinto. Sì, sì, naturalmente. È la base di tutto quello. Come diciamo, ti riduce lo stress. E quando una cosa ti riduce lo stress, credo che ha vinto proprio già la base. Tu cosa consigli a chi pensa che dieta flessibile sia complicata da seguire? Dai un consiglio. Provate. Io direi, il primo consiglio, penso, base sia di provarla. Vi accorgerete da soli che non è nulla di complicato e che è una cosa che porta a risultare. Perché quando lo fai con la mente libera, senza costrizioni, riesci ad ottenere risultati che vuoi senza aver nessun problema. Che è proprio quello che a volte non ti fa avere risultati. La costrizione. La costrizione credo che sia la base della mancanza di risultati del 90% della popolazione. E infatti, per chiudere, così ti lascio anche libero, tu Francesco, cosa ti senti di dire tutte quelle persone che hanno dubbi su dieta flessibile, oppure quelle persone che ancora si ostinano a seguire i metodi, diciamo, tradizionali, classici, privativi? Allora, la cosa che mi sento di seguire e che mi sento di dire intanto è che bisogna esserci con la testa. Nel senso, bisogna fare la, quando fai una scelta, la devi fare convinto. Non fare scelte a caso, perché poi non ti fanno avere risultati e la colpa la dai al programma, se è il caso. Quando in realtà sei tu che non riesci a seguirla perché non sei convinto di quello che stai facendo. Dieta flessibile è un programma che ti lascia, come abbiamo già detto, libero di mangiare, ti fa mangiare tanto. Vi sfido a dire una persona, ce n'è magari in famiglia, una persona che fa dieta flessibile, quando dice, io sono a dieta e ti vedono mangiare, si mettono a vedere tutti. È un colpo comune come dieta flessibile ormai, cioè, tutti quelli che fanno dieta flessibile per i loro parenti non sono a dieta in realtà, anche se poi perdono decine di chili. Le persone che hanno dubbi devono fidarsi delle recensioni che ci sono, perché sono recensioni, come potete vedere, di persone reali. Non sono persone finte o recensioni create ad hoc. Quindi confermi che non ti abbiamo pagato per fare questo intervista. Non mi avete pagato e confermo di aver perso i 40 chili, assolutamente. Ho buttato tutti i jeans e vecchi, altrimenti me ne facevo vedere un paio la differenza con quelli nuovi. Quindi fidatevi, provatela, perché una volta che iniziate, lasciarla diventa difficile. Francesco, io ti ringrazio tantissimo e ti faccio tantissimi complimenti, perché tutti i complimenti che ci hai fatto, quant'altro, io ti ringrazio, ma la vera forza l'hai avuta tu. Quindi i veri complimenti vanno fatti a te, perché dal giorno 1 hai deciso di cambiare la tua vita e l'hai fatto. Quindi complimenti a te, Francesco. Un saluto a tutti i nostri follower, un saluto a tutti gli amici che ci hanno scoperto oggi e un grande abbraccio a Francesco. Ciao Francesco. Un saluto a tutti, ciao. Ciao. Grazie a tutti.